ok per oggi basta ah mi scordo sempre ti devo presentare questa affare qui questa affare qui non sai che cos'è prima o poi riuscirò ad avere il tempo di presentarti questa che è una luce particolare giung funziona a batterie con la loro batteria inserita con la batteria proprio dedicata ed è un 100 watt 100 watt fa una luce bestiale sta a fare aspetta che provo a vedere se riesco ad accenderlo hai visto guarda pazzesco fa veramente tanta luce ed è una roba di cui ti voglio parlare sicuramente in futuro arrivo e ci vuole solo il tempo adesso sai che sono impegnato a preparare viareggio viareggio il 3 il 3 di maggio insieme agli amici toscani ora quello che ti voglio dire è che caccia grossa è out ti sei perso il treno mi dispiace se volevi tentare il test per fare acquisizione tramite la super lead generation dei nostri banner dovrei aspettare tutti coloro che si sono già registrati invece verranno chiamati nei tempi giusti per poter fare lo start up e vedremo sicuramente nei prossimi mesi quali saranno i risultati noi intanto stiamo andando avanti per proporre le case che stiamo acquisendo intanto e mi dispiace mi dispiace perché purtroppo l'avevo detto che la capacità era limitata c'è un sacco di lavoro da fare per attivare queste queste procedure e però appena i banner saranno tranquilli ci saranno i risultati e quindi saremo sicuri al cento per cento di presentarti qualcosa di efficiente ed efficace allora i banner hanno promesso di riaprire riaprire i cancelli sta in campana quindi quanta luce fa sto pipaglio qua allora un'altra cosa che volevo dirti è che ho parlato con golia golia pezzulla da il famoso formatore della comunicazione e stiamo per organizzare un bel corso per la community a settembre sarà un corso di due giornate due 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 giornate due in un hotel a bologna il costo sarà inferiore ai 200 euro a persona quindi volevo già darti questa prima assoluta parlando anche di formazione visto che c'è molta richiesta da da parte vostra di avere un punto di riferimento per la formazione a livello base ho parlato e incontrerò lorenzo cavalca che è uscito da mike ferri una costola era un coach di mike ferri e ha messo in piedi una struttura di cui si sta adoperando a narita è molto contenta ho visto il loro materiale e direi che mi sentirei di poterlo proporre come percorso di base per imparare a fare che 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 incredibile percorso di base per fare l'agente immobiliare quindi potremmo avere già risolto anche questa necessità ve lo dico lo incontro il 2 poi dopo vediamo sarà presente a viareggio con un suo mini stand così ci dà anche una mano a coprire i costi e e poi e poi vabbè c'è sempre quella grande cosa particolare di cui ti voglio parlare quel mondo tutto nostro che sta nascendo ma te lo racconto un'altra volta ciao spegnista a fare una roba